C'è stata una comunicazione da parte di un collega che ha appunto confermato ciò che ha già detto lei da parte della senatrice Ronzulli, cioè che non ci sono elementi di preoccupazione ma il Presidente è stato ricoverato per scopo precauzionale. Sì, ricordiamo che anche il Presidente ieri in un collegamento credo elettorale con Genova ha detto insomma sto abbastanza bene, insomma questo si era fatto sentire, aveva detto insomma mi è capitata anche questa ma insomma continuo la mia battaglia.